Benvenuti qui in Pordenone a La Vecchia Osteria del Mono è il tipo di restaurant di Pordenone dove puoi mangiare tipiche di odyseria un po' di sopia, hot o warm con un salato verde e rosa poi un po' di pollo di carne un pollo di velo, di porco, di sausage poi un baccalà, un pollo di pesce e un pollo di carne fresca preparato da mia mamma Benvenuti, ci siamo pronti per te